160 squadre, 4.000 atleti, 500 partite, 110 arbitri, 30 palestre. Ecco i numeri della Adriatica Cup, mastodontico torneo di basket giovanile che sarà a Pesaro da sabato 23 a lunedì 25 aprile, convogliando categorie di pallacanestro maschile dal mini basket all'under 17. Dopo due anni di stop per Covid, l'Adriatica Cup torna a Pesaro con la 25esima edizione e il 19esimo Memorial Giorgio Marollo ha nemmeno una settimana dalle migliaia di giovani cestisti arrivati in città per i tornei di Pasqua, Olimpia e Ciaurudi. Un'ulteriore conferma al basket polmone del turismo primaverile pesarese. Il mio torneo è il torneo da 15 anni il più grande d'Italia. Quest'anno abbiamo 160 squadre, devo dire che non ho lasciati fuori una trentina perché poi comunque tra qualche struttura che non hanno aperto per restauro e qualche altra che avevano problemi siamo riusciti a portare qualcosa a gabizze ma a livello di trasporti poi non davamo la qualità come in loco. Noi è un torneo che diamo tutti i trasporti perché è un puzzle che se qualcosa tarda salta tutto quindi con la collaborazione dell'AMI siamo riusciti a prendere 16 pullman che gireranno nella città e speriamo che sia bel tempo e che ci sia una bellissima manifestazione.